A Castellabate prosegue il ricco calendario di eventi per i festeggiamenti dei 900 anni del caratteristico borgo cilentano. Nella splendida location di Villa Matarazzo è andato in scena Castellabate oltreoceano, una manifestazione che ha permesso di scoprire le storie e i racconti degli uomini che hanno dato lustro a questa terra. Questa sera dedicheremo una serata ad alcune figure di emigranti che da Castellabate sono partiti loro, i loro genitori tra 800 e 900 e con il loro operato hanno dato lustro alla nostra collettività. Sono personaggi che qui a Castellabate non conosce quasi nessuno e che era giusto e doveroso da parte nostra ricordarli. Sono un altro per il fatto che hanno rappresentato in quei paesi che abbiamo scelto, quindi Argentina, Brasile e Uruguay, degli aspetti molto particolari non solo della cultura ma anche del mondo dell'arte, del mondo della professione e uno di loro in particolare è l'ambasciatore Paolillo che è stato rappresentante non solo presso le Nazioni Unite ma anche ambasciatore presso la Santa Sede. Quindi personaggi che nel portare il loro cognome, orgogliosamente di Castellabate, hanno portato anche con loro le tradizioni della nostra terra e poi lo scopriremo nel corso della serata quando racconterò alcuni particolari della loro vita non solo professionale ma anche privata. E questo è importante volendo ricordare i 900 anni del nostro Castello e quindi per certi versi anche dalla nostra comunità. Non sono stati nei primi e negli unici e ultimi che sono stati all'estero. Potremmo raccontare le vicende di tantissime centinaia di persone che hanno lasciato la nostra terra ma già in epoche precedenti rispetto all'Ottocento quando inizia la vera e propria emigrazione perché Castellabate essendo un luogo di mare ha consentito a molti marinai, quindi molti addetti alla marina mercantile di potersi confrontare con altre realtà e quindi spingersi addirittura oltreoceano raggiungendo i posti più impensabili non solo dell'America del Nord ma anche dell'America del Sud e di altre località sui quali sto ancora lavorando. Insomma quindi sono delle belle storie che andrebbero a mio avviso raccolte in un libro, in un testo, una sorta di enciclopedia perché sono veramente tante e tante le biografie di questi uomini illustri.